E' impossibile chiudersi. Chi si vuole chiudere al mondo dice una sciocchezza, non si possono fermare i flussi migratori, semmai questa legge sull'insicurezza renderà la situazione ancora più grave perché concentrerà ancora di più le persone tutte negli stessi luoghi, non diffonderà le persone migranti in tutti i territori in modo che non se ne avvertano le difficoltà e aumenterà molto la clandestinità e quindi il rischio che persone fragili per scappare di fronte a una legalità formale profondamente ingiusta vadano a finire in braccio alle organizzazioni criminali. Quindi Napoli vuole dare un esempio diverso, un esempio di coesione, di rispetto delle regole da parte di tutti, i diritti e i doveri valgono ovviamente per tutti, ma di non far prevalere la comunità del rancore, dell'intolleranza, della discriminazione e fino anche del razzismo. E' così come interpreteremo questa legge sull'insicurezza solo in maniera costituzionalmente orientata. Tutti i profili che vanno in violazione della di costituzione saranno disapplicati.